Tempo di quaresima, avvio della liturgia in cattedrale. Nel Nuovo di Napoli l'arcivescovo Crescenzo Sepe ha presieduto la solenne celebrazione eucaristica con il rito dell'imposizione delle ceneri. Con il porporato hanno concelebrato i vescovi ausiliari Antonio Di Donna e Lucio Lemmo e il capitolo metropolitano. Il servizio liturgico è stato affidato al seminario maggiore di Capodimonte. Con il mercoledì delle ceneri si avvia il folto programma quaresimale che vedrà impegnato il cardinale nell'alexio divina sul libro di Giosuè e le stazioni quaresimali nei vari decanati e parrocchie della diocesi. L'alexio divina partirà mercoledì 29 febbraio nella parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Ponticelli alle 8 di sera. Gli altri appuntamenti sempre alle 8, il 7 marzo nella parrocchia San Mauro di Casoria, il 14 dello stesso mese nella parrocchia di San Ciro a Portici, il 21 marzo in quella del Buon Consiglio a Toro del Greco, il 28 nella parrocchia San Gennaro al Vomero.